Ciao amici, sono Simona Vignali, life coach, naturopata esperta di alimentazione naturale. Oggi sono in forma, ma tempo fa ero proprio in crisi, volevo dimagrire, sapevo cosa mangiare, ovviamente è il mio lavoro, ma non riuscivo a organizzarmi bene e poi ero spesso fuori o facevo tardi la sera, non avevo mai le cose giuste in frigo, mi capite no? E allora ho cercato una soluzione, ma non una semplice soluzione, una soluzione alla Simona Vignali, cioè qualcosa di semplice ma risolutivo. E l'ho trovata una soluzione veloce, completa e anche economica, che non guasta mai. È una di quelle cose che dici, ma perché non ci ho pensato prima? Ho iniziato a usare i frullati e le barrette della Exante, che gentilmente sponsorizza il video di oggi. Sono dei pasti sostitutivi, hanno ottimi ingredienti e non sviluppano carenze come certe diete che ti lasciano in apparenza magra, ma in realtà svuotata e impoverita. I pasti sostitutivi possono essere sani se hanno i giusti ingredienti. I frullati e le barrette sono ricchi di proteine e fibre che danno un senso di sazietà e di vitamine e minerali fondamentali per la nostra salute. Il metabolismo rimane attivo, abbiamo energia pulita a disposizione e possiamo sostituire uno spuntino, un pranzo o una cena senza problemi. Possiamo usare i pasti sostitutivi in due modi. Uno, quando ci viene difficile organizzare un pasto per mancanza di tempo o di ingredienti. Allora possiamo bere un frullato o mangiare una barretta, magari insieme a qualcosa di molto leggero. Due, in questo caso Exante propone un programma ipocalorico settimanale, dove spiega come inserire i pasti sostitutivi nella giornata o nella settimana, con una tabella molto precisa e tutti i pasti organizzati, anche quelli che ci dobbiamo cucinare noi. Sono prodotti in Inghilterra, ma c'è già una mega community in Italia che sta dimagrendo presto e bene e il libretto e il sito sono tutti in italiano. Si dimagrisce in modo sicuro, con gusto e stile, perché i prodotti sono anche belli da vedere e da avere in casa. Io uso i frullati super cremosi in versione vegana, ma ci sono anche quelli a base di latte scremato o farina di avena in tanti sapori diversi. Cioccolato, vaniglia, mandorle e vaniglia, caffè e caramello, cocco, mango, ciliegie e frutti rossi, limone e cheesecake, biscotti alla crema e per i più golosi e tradizionalisti tiramisù e stracciatella, ovviamente con ridotto tenore di zuccheri. Fare questi frullati è molto semplice, basta aggiungere acqua secondo le dosi, shakerare e sono pronti. Fantastico! Fantastico! Buonissimo! Se volete provarli li trovate sul sito della Exante, sono molto convenienti e potete usare il mio codice sconto SIMO10. Per avere un ulteriore sconto del 10% su tutte le buste singole o sulle box convenienza, con buste di frullati e barrette tutto assortito. Io mi sono davvero appassionata a questi prodotti al punto che voglio darvi un aiuto secondo la mia esperienza personale e professionale. Siccome ho iniziato a collaborare con questa ditta Exante, se anche voi usate questi prodotti e volete iniziare a provarli, potete farmi tutte le domande che volete. E sarà come ricevere una consulenza gratuita con me, quindi approfittatene e andate in descrizione per vedere come fare. Bene! Sono stata molto contenta oggi di condividere queste informazioni con voi e spero che anche voi le vogliate condividere con i vostri amici sui vostri social. Mettete il vostro like a questo video e seguitemi su tutti i miei social, mi raccomando, Facebook, Instagram compresi. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo sempre più trendy e sani, con Simona Vignali naturalmente. Ciao!